Potevo anche prendere gore sull'ultimo salto o su 12, però potevo anche vincere la categoria se avessi fatto quella girata. Quando poi sento che non faccio tutto perfetto, tendo a perdermi. Infatti, hai visto, sono scesa dall'11 invece di girare, ho rimesso in ordine. Così come quando comunico a qualcuno devi scegliere se avere ragione o se arrivare a un accordo, a qualcosa che va bene per entrare. Così durante il percorso ci sono dei momenti, come quel momento dove tu hai girato dietro, che lì o scegli di essere perfetta o scegli di vincere. Ci sarà sempre in ogni percorso un momento preciso in cui devi prendere quella scelta. A volte ti si allunga una redina, a volte ti si sposta un po' il cavallo, a volte volevi mettere 5 e hai messo 6. E quello è il momento esatto in cui scegli. Voglio essere perfetta o voglio vincere. Esatto. Pensi di riuscire ad applicare questa nuova filosofia? Assolutamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.